Siamo col capitano del riposto calcio Maurizio Anastasi, noi ci eravamo visti, ci eravamo diciamo abbiamo fatto quattro chiacchiere prima delle ultime due partite di campionato quando la salvezza era ancora da conquistare. La salvezza è arrivata anche piuttosto comodamente se così vogliamo dire, che voto diamo a questa stagione complessivamente? Ma è stata un'annata come hai detto precedentemente molto difficile, molto difficile perché abbiamo avuto numerosissimi infortuni, tra cui il mio, i tre mesi, quindi non è semplice rincalzare i giocatori che fanno la seconda categoria. Il voto è ottimo, fondamentalmente l'abbiamo conquistato sul campo soffrendo, non è stato facile comunque, sono molto obiettivo, è arrivata la penultima giornata e siamo contenti di questa salvezza e riprogrammaremo l'anno prossimo. A proposito di programmazione, il prossimo mese sarà ovviamente importante, quindi si parte da una programmazione che parte dai quadri dirigenziali per poi passare ai quadri tecnici, mi pare di capire. Sì, diciamo che ci siamo presi un mese di relax, intanto giovedì ci siamo incontrati, insomma abbiamo fatto il primo incontro con la società, col presidente Scudo, vicepresidente Giovanni Guidi, direttore sportivo Maurizio Anastasi, insomma ci sono stati degli ingressi nuovi, tre soci nuovi che sono entrati per quanto riguarda i fondatori, ci sarà qualche incarico in più e un partnership di sponsor e abbiamo affrontato i punti, quelli più importanti da portare avanti perché in seconda categoria non è semplice strutturare tutto per poi vincere il campionato, non è così semplice per come si pensa. No, 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 onestamente ancora sul discorso allenatore non abbiamo parlato, abbiamo parlato sul discorso societario che io ritengo assolutamente importante per quanto riguarda il cammino di una società, noi è da due anni che siamo società quindi insomma non possiamo pretendere di arrivare chissà dove, fra una decina di giorni insomma sonderemo il terreno insomma sull'allenatore e vedremo insomma cosa fare realmente per cercare di fare un campionato migliore dell'anno precedente.